Parla di tempesta perfetta, ma nello stesso tempo delinea un futuro in cui l'Abruzzo non debba soccombervi necessariamente. L'economista Pino Mauro consegna a chi lo legge o a chi lo ascolta una serie di riflessioni utili non solo a capire meglio la situazione attuale, ma anche a ipotizzare soluzioni a breve e lungo termine. L'economia, si sa, non è materia di interesse generale e di fronte ai grandi disastri che attraversano il mondo economico, il cittadino resta spesso freddino e poco reattivo. Oggi però la batosta riguarda tutti e le cose potrebbero andare diversamente. Come ha già dimostrato una prima volta, cioè all'indomani della grande crisi finanziaria del 2007-2008 e anche in quell'epoca si parlava di tempesta perfetta, poi vi è stato il terremoto, ecco in tutte queste circostanze l'Abruzzo è riuscito a riprendersi sotto il profilo sia dell'occupazione che del prodotto interno lordo, cioè del tasso di crescita. La differenza ovviamente è che chi ha, magari storce un po' il naso, però riesce a pagarla quella bolletta, chi ha meno fa più fatica. Poi c'è una classe intermedia, diciamo così, un ceto medio che può anche riuscire a pagare quella bolletta e forse anche quella dopo perché ha del risparmio, ma rischia di scivolare invece più in basso. Ecco, questo è una delle questioni centrali perché noi abbiamo da un lato appunto questo ceto medio che ne risentirà sicuramente in maniera molto pesante appunto fra un paio di mesi. E dall'altro abbiamo redditi molto bassi che configurano una fascia direi estesa che va dal pensionato a chi ha viceversa lavori precari e così via. I giovani, donne, ecco, c'è una varia, sono varie categorie che possono essere influenzate e questi redditi diciamo così bassi può darsi che andranno ad allargare in maniera significativa la fascia della povertà. Io penso che in questo momento al di là delle questioni di bilancio di cui tanto si parla, parlo del bilancio pubblico, ovviamente in questa fase è quanto mai opportuno intervenire. Cioè è opportuno intervenire mediante bonus, mediante il pagamento delle bollette in via diretta e prolungando i termini per il rientro nelle banche e così per quanto riguarda le garanzie offerte e così via. Certo è una fase che andrà a incidere sul bilancio pubblico però credo che sia in questo momento una fase direi necessaria. Diversamente noi avremmo da un lato, come dicevo prima, ceto medio e fasce di povertà allargate e dall'altro lato un numero non trascurabile di imprese, soprattutto quelle piccole e medie imprese che non hanno liquidità, che potranno risentire uscire dal mercato. La seconda fase qual è? Che poi scade nel 2026, non è che abbiamo molto tempo a disposizione ed è quella di intervenire intervenire facendo investimenti, soprattutto per quanto riguarda, io credo, su due traiettorie fondamentali. Da un lato il lato infrastrutturale, mi pare evidente, di cui tanto si parla, però si parla meno dall'altro lato e cioè come rendere questa regione più moderna e più competitiva. I dati che noi abbiamo sui processi innovativi di questa regione non sono esaltanti. Si parla, ripeto, molto di infrastrutture ed è giusto che si faccia, però della competitività, cioè digitalizzazione, capitale umano, trasferimenti tecnologici. Ecco, sono questi gli elementi, gli ingredienti del domani.